Regione in adempiente sul decreto Monti su Italia, le indennità di carica, il Molise unico in Italia a non aver recepito la direttiva, lo ha denunciato l'ex presidente della giunta Marcello Veneziale, termini scaduti il 2 luglio. Il diritto alla salute non lo dà il mercato, la sanità uguale per tutti i cittadini è garantita dalla Costituzione, il parere del direttore Manuela Petescia, intanto audizioni in commissione per i casi della ex Cattolica e del Carsic di Venafro. Goletta verde e il mare Molisano, la barca di Lega Ambiente ha rilevato alcune situazioni critiche alla foce dei fiumi, intanto a Termoli è stata consegnata in comune la bandiera blu. Pitture della preistoria a Civitanova, ritrovati i graffiti sulla parete della roccia che domina il paese, una mucca e altri disegni testimoniano la presenza di antichi abitanti, altri reperti nella zona. I tifosi rosso-blu alla ricerca di uno sponsor, sempre più ridotte le speranze del Campobasso di partecipare al campionato di Serie D. Il 19 scadono le iscrizioni ma gli imprenditori restano alla finestra, attivi solo i supporter. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati dalla redazione di Telemulise. In apertura oggi parliamo di tagli ai costi della politica perché il Mulise è l'unica regione italiana che ancora non si è adeguata al decreto Monti. I termini sono scaduti il 2 luglio scorso e ora la regione rischia pesanti sanzioni e addirittura lo scioglimento del Consiglio. A lanciare l'allarme è stato Marcello Veneziale, ex presidente della Giunta, ex sindaco di Sernia, in questa intervista esclusiva rilasciata a Telemulise. Allora sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. Sono davvero tempi duri per gli inquilini di Palazzo Moffa, mentre imperversano infatti le polemiche e i veleni sulle spese folli sostenute dai gruppi consigliari, l'appedenze compresa, è scoppiata un'altra bomba sui costi della politica che mette ancora di più a rischio la credibilità del Consiglio regionale. L'ordigno questa volta lo ha lanciato un vero signore della politica molisana, Marcello Veneziale, e riguarda le inadempienze dell'Assemblea regionale sul recepimento del decreto Monti e quindi sull'ulteriore rinvio dei tagli alle indennità e al finanziamento dei gruppi di Palazzo Moffa. Il termine per la regione molise era entro il 2 di luglio. Questo termine è passato, il recepimento del decreto Monti non c'è stato, la regione è inadempiente e quindi scattano delle pesantissime sanzioni economiche. Quali? L'80% dei trasferimenti erariali in meno. La regione molise perde l'80% dei trasferimenti erariali al netto delle spese sanitarie e delle spese dei trasporti. E inoltre perde ulteriori 2 milioni di euro che corrispondono grossomodo alla metà degli stipendi dei consiglieri regionali. Ma il decreto prevede anche una proroga di tre mesi? No, il decreto prevede semplicemente che alle regioni inadempienti venga assegnato un termine entro il quale provvedere. Se non provvede entro questo nuovo termine, e in questo caso 90 giorni, quindi fine settembre, la regione si scioglie, la regione viene commissariata e quindi c'è lo scioglimento. Quindi il nuovo termine non è una proroga del primo termine, non è una proroga sanatoria dell'inadempimento già effettuato. Il nuovo termine semplicemente fa parte di una procedura finalizzata allo scioglimento della regione. Ma le altre regioni, nelle condizioni molise, tipo Lombardia e Lazio, hanno già legiferato, che lei sappia? Tutte, hanno tutte legiferato. L'unica che non ha legiferato è la Sardegna, mi pare, la Sardegna e la Sicilia. Ma tutte le regioni a statuto ordinario si sono affrettate a legiferare nei termini, compreso la Lombardia e il Lazio. Il Lazio ultimamente ha lavorato due giorni e due notti per poter stare nel termine del 2 luglio. Lei è un autorevole esponente del centro-sinistra. Perché non ha messo in guardia la maggioranza sul pericolo che si corriva? Ma guarda, io da molti giorni sto tentando di parlare con il Presidente Frattura. Ho telefonato non so più quante volte e ho parlato con tutti i suoi collaboratori, di cui ho imparato a memoria i nomi. Pietro, Tiziana, Maria Olga. Ho manifestato la necessità assoluta di parlare col Presidente, perché era una questione di estrema urgenza. Quindi, malgrado abbia provato in tutti i modi a drammatizzare il motivo della richiesta, non ci sono riuscito. Ora, come si può risolvere questa questione, secondo lei? Noi siamo in Italia, che è il paese delle amministie, dei condoni e del perdono. Quindi è anche possibile che il Governo, che è metà amico, metà nemico e non si capisce che cos'è, possa trovare un escamataggio per aiutare il Molise, se vuole essere generoso nei confronti del Molise. Però io mi chiedo, perché dobbiamo arrivare a questo punto? Che bisogno si avvertiva di andare a chiedere con il cappello in mano il favore al Governo nazionale, quando c'era un termine che poteva abbondantemente essere rispettato? Perché dobbiamo andare a pietire il favore bussando alla porta del sottosegretario di turno? E questo è l'aspetto che più mi irrita in un certo senso. Che cosa si può fare? Si deve fare subito, siccome l'Italia è il paese del perdono, però il perdono te lo devi meritare. Te lo puoi meritare se immediatamente, con urgenza, prima dell'estate e entro il mese di luglio, si recepisce il decreto, il decreto modico. Ma è strano che nessuno in Consiglio abbia sollevato questo caso. E questo è l'aspetto più sconcertante. Perché io capisco che possa sfuggire a qualcuno, ma è sfuggito a tutti, alla maggioranza e all'opposizione. Nessuno che si sia alzato per dire, ma scusate, quando scade il termine per il ricepimento del decreto. Nessuno si è posto questo interrogativo. Altro argomento spinoso è la sanità. In Commissione regionale si sono tenute le audizioni per la ex Cattolica e per il Carsic di Venafro. Sentiamo. Si sono tenute in mattinata in Consiglio regionale due importanti audizioni sulla sanità, convocate in seduta congiunta dalla seconda e dalla quarta Commissione di Palazzo Moffa. Sul tappeto, ancora una volta, i problemi di sopravvivenza di due strutture sanitarie importanti, la ex Cattolica e il Carsic di Venafro. Per la Fondazione Giovanni Paolo II si prospetta la piena integrazione con il Cardarelli e con la Facoltà di Medicina e Chirurgia. La situazione è drammatica perché manca in questo momento, è mancato finora per meglio dire, un indirizzo per la soluzione dei problemi dell'attuale Fondazione Giovanni Paolo II, ex Cattolica. L'indirizzo adesso c'è ed è quello di un'integrazione con le altre due strutture limitrofe, cioè l'Università e l'Ospedale Cardarelli. L'integrazione naturalmente deve tener conto dei livelli occupazionali, deve tener conto delle competenze senza sovrapposizioni di reparti e sarà fatta in maniera da offrire il massimo della qualità all'utenza in modo da mettere in moto la mobilità attiva che è una cosa preziosa per la nostra regione e contemporaneamente salvaguardare i livelli occupazionali che sono un altro importante tassello della vicenda. Buoni i propositi anche per la struttura riabilitativa di Venafro, il Calsic, dove sono in bilico un centinaio di posti di lavoro e il servizio per i cittadini. Il Calsic è una struttura, anzi è la prima struttura riabilitativa del Molise, quindi ha un'importanza anche da questo punto di vista della tradizione, della possibilità di cure di qualità nella nostra regione. È un argomento importante, tra l'altro come quello della ex Cattolica e noi vogliamo dare incontro, trovare anche una mediazione per risolvere il dramma sociale e occupazionale dei tanti dipendenti della Calsic, che svolgono un lavoro assolutamente di qualità, riabilitativo rispetto a alcune specialistiche, patologie molto importanti. c'è la volontà di eliminare questo processo di mobilità che è stato avviato per salvaguardare i livelli occupazionali e offrire attraverso una struttura privata un servizio di qualità ai nostri cittadini e alla sanità molisana. E la parola sanità in Molise ormai evoca solo piani di rientro, riduzione del deficit e tagli, ma al di là della correzione di alcune vistose storture del sistema, correzione sicuramente necessaria, c'è un principio filosofico di base che non può essere accantonato e dal quale non si può prescindere. Il diritto alla salute, uguale per tutti i cittadini italiani, è sancito dalla nostra Costituzione. E il diritto alla salute non lo stabilisce il mercato. Sentiamo in proposito il nostro direttore Manuela Petescia. Giuro solennemente di consacrare la mia vita al servizio dell'umanità. La salute dei miei pazienti sarà la mia prima preoccupazione. Una volta si parlava di salute, medicina, ospedali, vite umane salvate. Oggi si chiamano imprese del settore sanitario. Una volta c'era il giuramento di Ippocrate. Oggi ci sono le entrate e le uscite, i costi, i ricavi. Come se il numero dei pazienti e la varietà delle patologie fossero un mercato e dall'incontro di domanda e offerta, magari 600 infarti e 44 cacarelle, si potesse regolare la quantità di servizi sanitari da offrire ai cittadini, riducendo gli sprechi. Sul numero e la varietà media di malanni per i quali si fa ricorso alle cure ospedaliere, territorio per territorio, si calcola il fabbisogno di strutture sanitarie, di medici, di reparti e orari di lavoro. Un po' come, in base alla domanda di bulloni, un'industria decide l'entità produttiva da immettere sul mercato e stabilisce su quella quantità il numero di macchinari, il tetto occupazionale e i turni degli operai. Ma un paziente è una vita umana e le merci non c'entrano nulla. Se l'offerta di servizi sanitari sarà inferiore alle esigenze di salute, fosse anche per una singola persona, non ci sarà il bullone in magazzino, ma una vita umana in grave disagio, se non spezzata. E il valore di una vita umana o della dignità di una vita umana non lo quantifica il mercato, a meno di buttare agli ortiche l'articolo 32 della Costituzione italiana. L'organizzazione della sanità in Molise, all'insegna dei tagli, parte da un presupposto capitalistico inaccettabile, quello della quantità delle merci, del costo ricavo, del profitto e della lotta agli sprechi aziendali. Con tanto di surplus, per usare un linguaggio forse antico, ma efficace, che non andrebbe a vantaggio degli ammalati molisani, ma del solito Nord Italia, in una recrudescenza, perfino morale, del distacco tra i due lembi della penisola. Dopo averci negato le infrastrutture e dopo averci usato come pattumiera dell'efficientissima Padania, ora ci tolgono pure il diritto alla salute. A partire dal numero dei potenziali ammalati, che in Molise è per forza di cose esiguo, si sta costruendo un castello di chiacchiere saturo di vocaboli vuoti, come razionalizzazione delle risorse, lotta allo spreco, maggiore qualità, eccellenza sanitaria. Un castello di carta, pronto a crollare miseramente se non si è colpiti dalla patologia giusta, nel posto giusto e nell'orario giusto, per buona pace degli scienziati dei numeri, il progresso che fa ricorso alle preghiere e alle candele accese ai Santi. Se colpito da infarto, a Campobasso mi salvo e ad Agnone muoio tra le curve e i viadotti innevati, quella non si chiama razionalizzazione, si chiama disuguaglianza. Se due infermieri per reparto devono assistere 40 ammalati, quella non si chiama qualità, si chiama carenza di personale. Se il medico del pronto soccorso è costretto a parcheggiare il paziente per ore in corridoio su una barella, non è riduzione di sprechi, è mancata assistenza. Se le liste d'attesa per le analisi e gli esami diagnostici raggiungono i sei mesi, non è eccellenza, è terzo mondo. Se nel 2013 una donna corre ancora il rischio di partorire in macchina, quella non si chiama casualità, ma si chiama ridicolo. E se un bambino muore, semplicemente perché non c'è la strumentazione idonea a diagnosticargli una malattia rara? Perché quella strumentazione è costosa e il Molise non se la può permettere? Non è destino, è questione meridionale. E si parlerà proprio di sanità nell'ultima puntata di Moby Dick prima della pausa estiva in onda questa sera su Telemulise in diretta a partire dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno il presidente e il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Nico Ioffredi e Giuseppe Sabusco, i rappresentanti dei lavoratori della fisiomedica Nicola Pinto e Lorenzo Mignogna, i sindaci di Termoli e Campomarino Antonio Di Brino e Gianfranco Camilleri e i rappresentanti sindacali Carmine Vasile e Tecla Boccardi. Ci sarà anche il contributo esterno di Michela Musacchio in rappresentanza del comitato Pro Cardarelli e dell'ex presidente della regione Marcello Veneziale. Inoltre interverrà in diretta telefonica anche il governatore Paolo Di Laura Frattura. Ora cambiamo argomento, ci occupiamo dell'ITR perché questa mattina a Campobasso nella sede dell'assessorato alle attività produttive si è tenuto un incontro sul destino dell'azienda, dell'industria di moda tra regione e sindacati. Vediamo. La regione è pronta a intervenire in aiuto dell'ITR ma solo dietro garanzie certe dalla proprietà sul futuro dell'azienda. L'assessore alle attività produttive Massimiliano Scarabeo ha messo oggi sul tavolo la sua proposta di sostegno all'industria tessile di Pettoranello durante un incontro con i sindacati a Campobasso. Ma noi potremmo intervenire attraverso la finanziaria della regione molise logicamente sempre supportati attraverso garanzie reali quindi riconosciute dal sistema bancario in brevissimo tempo con un intervento che mi è sembrato di capire necessario e indispensabile verso l'ITR pari a 5 milioni di euro. 5 milioni di euro che passano attraverso delle fideossioni. condizione sine qua non è quella comunque di pagare il 50% dei fornitori di beni e di servizi e dei fasonisti molisani. Bisognerà anche capire se questo intervento possa essere sufficiente a sostenere l'ITR in un momento delicato come quello attuale. L'amministratore delegato Antonio Bianchi infatti aveva chiesto alla regione un altro tipo di garanzie. L'imprenditore di riferimento ha fatto delle richieste alla nostra regione le ha riportate inizialmente attraverso un 20 milioni di euro cerco di sintetizzare un attimino un po' i concetti attraverso quella che è la cosiddetta elasticità di cassa quindi nei rapporti con gli istituti bancari altri 20 milioni di euro per quanto riguarda il piano industriale altri 5 milioni di euro per alcune iniziative di piccole e medie imprese sempre dell'indotto ITR facendo capo alla propria famiglia e più precisamente all'apertura di outlet o logistica. Intanto 150 lavoratori su circa 700 si trovano in cassa integrazione a rotazione e 60 a zero ore anche i sindacati vogliono capire quali prospettive si aprono per l'industria di moda. io della segretaria regionale e il segretario generale Carlo Scarati abbiamo deciso già dal 25 del mese scorso di chiedere un incontro all'assessorato all'industria per capire esattamente lo stato dell'arte della situazione dell'ITR nei confronti della regione siamo in una situazione veramente drammatica l'avvenire dell'ITR ritengo personalmente che sia molto a rischio la regione e l'agenzia delle entrate hanno rinnovato l'accordo per gestire l'IRAP e l'addizionale regionale IRPEF l'agenzia si impegnerà a garantire l'assistenza necessaria ai contribuenti e a promuovere corsi formativi per i funzionari regionali la convenzione firmata dal dirigente Antonio Francioni e dalla direttrice Paola Alifuoco sarà valida per un anno di lavoro si è parlato anche a Montagano in un convegno a cui è partecipato anche il senatore del PD Giuseppe Lumia già presidente della commissione parlamentare antimafia e ora membro della commissione giustizia ascoltiamo i dettagli nel servizio di Antonio di Monaco la legalità può diventare uno strumento per rilanciare lo sviluppo sostenibile aprendo ai giovani nuovi posti di lavoro le micro imprese che si fondano su prodotti tipici locali possono accorciare i passaggi della distribuzione e rilanciare i consumi con prezzi competitivi sul mercato se ne è parlato a Montagano in occasione del convegno organizzato dall'associazione naturalmente Molise abbiamo pensato e crediamo che l'agricoltura di qualità possa essere volano per uscire dalla crisi per fare questo bisogna rimettere in sesto un po' l'ambiente e soprattutto rispettare la legalità perché ci sono delle sacche di non conoscenza di quello che succede in alcuni settori in Molise ci troviamo a Montagano proprio per questo perché potremmo coniugare tutto noi qui potremmo rilanciare due filiere sono quelle del pomodoro e del moscato locale a chiusura dei lavori è intervenuto anche il senatore del PD Giuseppe Lumia già componente della commissione parlamentare antimafia e ora vicino alla nomina a capogruppo nella commissione giustizia di Palazzo Madama in che modo la legalità può diventare una risorsa per lo sviluppo innanzitutto avendo un'idea progettuale il Molise è terra di produzione la Calabria è terra di produzione la Puglia è terra di produzione la mia terra la Sicilia è terra di produzione e quindi smetterla con la spesa pubblica assistenziale quella che è servita per rendere i nostri territori le nostre realtà comunali le nostre regioni terre di consumo dei prodotti del nord il nord produce il sud consume i prodotti del nord dobbiamo spingere tutte le risorse verso le attività produttive e bisogna spendere non con i bandi con le carte con la burocrazia con le buste che producono tangenti con le raccomandazioni col clientelismo no col credito di imposta si stabilisce un bando con l'obiettivo ad esempio sviluppo rurale in agricoltura e poi col credito di imposta l'imprenditore utilizza quelle risorse senza presentare nessuna domanda senza rincorre nessun politico e burocrate senza pagare nessuna tangente con pigiando un tasto di una tastiera di un computer e ora andiamo sulla costa a Termoli dove è arrivata Goletta Verde l'imbarcazione di lega ambiente e allora vediamo con Manuela Iorio qual è lo stato di salute del nostro mare due alberi alti 18 metri che svettano da una culla di legno e decine di bandierine gialle che sventolano dalle cime sono le inconfondibili caratteristiche di Goletta Verde l'imbarcazione di lega ambiente che solca i mari d'Italia monitorando il loro stato di salute insieme a quello dei litorali oltre 30 tappe dal nord al sud dello stivale in difesa dell'ecosistema marino e del territorio e che Molise rileva ancora dati allarmanti siamo a bordo di Goletta Verde l'imbarcazione di lega ambiente che è tornata a termoli in Molise proprio per monitorare lo stato di salute delle nostre acque ancora una volta i punti critici sono quelli alla foce dei fiumi i prelievi sono stati fatti a giugno alle foci del fiume e biferno del canale riovivo acque fortemente inquinate questo è il risponso dei biologi che hanno trovato batteri delle feci in quantità elevate e che superano di molto i limiti consentiti per legge unico punto rilevato nei limiti invece a Campomarino nella zona del cosiddetto lungomare degli aviatori l'equipaggio di Goletta Verde ha fatto anche notare che nelle zone manca il divieto di balneazione sollecitando le istituzioni a provvedere facciamo questo monitoraggio ai punti critici proprio per ribadire l'urgenza che c'è di andare a indagare quali sono i reali problemi della depurazione perché da lì dipende non solo la salute del mare e la sicurezza dei bagnanti ma anche la salute proprio dell'ecosistema fluviale ma la nota dolente è rappresentata dal dossier reso pubblico sulla cementificazione della costa perché in 23 anni il 50% del litorale molisano è stato modificato irrimediabilmente con l'urbanizzazione abbiamo stimato facendo una sovrapposizione con immagini satellitari che dal 1988 al 2011 quasi il 50% della costa molisana è stata in qualche modo trasformata dal cemento e addirittura è stata cancellata sono stati cancellati ben 10 km di costa quindi chiediamo da un lato l'inedificabilità delle aree ancora indenni da questo fenomeno e anche di estendere le aree protette le aree sottoposte poi a vincolo presente anche la deputata del PD Laura Venitelli a cui lega ambiente ha chiesto l'impegno per una legge che possa imporre dei limiti all'edificabilità per tutelare il territorio una notizia di cronaca notte di furti e violenza a Campomarino dove un poliziotto fuori servizio ha sorpreso due uomini a rubare in un appartamento la gente con l'aiuto dei carabinieri che nel frattempo aveva chiamato è riuscito a fermare uno dei due malviventi si tratta di un ragazzo di nazionalità albanese che è stato poi arrestato caccia al complice che è riuscito invece a fuggire nel tentativo di fermarli è nata una violenta collutazione che ha coinvolto anche i militari aggrediti con calci e pugni ad avere la peggio è stato la gente che poi è finito in ospedale per lui diverse contusioni e un dito rotto voltiamo pagina spostiamoci a Civitanova del Sannio per parlare di una scoperta archeologica infatti sono state trovate delle antichissime pitture rupestre sentiamo Sergio Di Vincenzo una scoperta importantissima finora infatti tracce di arte rupestre non erano mai state trovate nella nostra regione seppur in cattivo stato di conservazione su questa parete rocciosa è possibile riconoscere almeno quattro figure dipinte di animali il sorprendente ritrovamento in località Morricone del Pesco a ridosso del tratturo Lucera Casteldisangro lo si deve a guido alla storia è stato lui un paio di anni fa a notare pitture e incisioni durante una delle sue passeggiate la prima cosa che ho visto quando mi sono avvicinato alla roccia un disegno che mi sembra fatto a matita mi è sembrato strano l'ho visto l'ho guardato a me è sembrata una pecora inizialmente che brucava e comunque questo è stato il primo impatto quel giorno ho visto solo quella figura ci sono tornato più volte l'ho ispezionata bene la roccia e ho scoperto altre figure incisioni e così via poi la palla è passata agli esperti le ricerche sono state condotte dai professori Dario Sigari e Carlo Peretto dell'Università di Ferrara si tratta di alcune pitture e in parte conservate e in parte un po' compromesse anche dalla loro età e dal tempo che è passato e che comunque sono una testimonianza come si potrà vedere poi nelle relazioni di una presenza in epoca ben più antica dal punto di vista artistico di quello che si pensasse sono riconducibili un po' alla proistoria e forse per certi aspetti al paleolitico ma saranno gli specialisti poi ad esprimersi fino in fondo tra l'altro nel territorio di Civitanova sono state individuate anche delle mura megalitiche un motivo in più per puntare sullo sviluppo di un settore quello turistico che la nostra regione finora e il parere del sindaco Lidia Iocca non ha voluto o saputo sfruttare conferma di quanto il nostro territorio sia ricco di storia di arte insieme alla cultura alle tradizioni e per fortuna ancora un ambiente quasi incontaminato elementi che sicuramente insieme possono contribuire allo sviluppo turistico della nostra regione e quindi allo sviluppo economico ed occupazionale L'agurio è quello che comunque l'attuale governo regionale impieghi ogni risorsa possibile proprio per lo sviluppo turistico della nostra regione E a proposito di turismo torniamo a Termoli per la cerimonia di consegna della bandiera blu Sono undici anni di fila che Termoli riceve la bandiera blu il prestigioso vessillo della fe simbolo di mare pulito ma anche di servizi e sviluppo ecosostenibile è stato consegnato agli operatori del settore in una cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale nel porto turistico tanta la soddisfazione ma c'è anche l'impegno a lavorare per raggiungere un altro obiettivo quello di far diventare Termoli a prodo turistico un riconoscimento che ancora solo e poche città italiane possono vantare il sindaco Antonio Di Brino ha rimarcato anche il difficile periodo economico che si sta ripercuotendo in negativo soprattutto sugli operatori del turismo per questo ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione a dialogare con gli imprenditori e a migliorare l'aspetto della città per renderla più accogliente a partire proprio dall'imminente riqualificazione del centro per 3 milioni di euro non tutti i bagnatori hanno ritirato la bandiera polemico il rappresentante della FIBA Pietro D'Andrea che ha rimarcato come negli anni ci sia stata scarsa collaborazione con la politica che a suo dire avrebbe fatto solo danni invitando l'amministrazione a coinvolgere gli operatori anche nelle scelte meno importanti per dar vita a una strategia comune di sviluppo turistico D'Andrea ha anche chiesto al sindaco di fare un passo indietro sulle concessioni stagionali che andrebbero a penalizzare gli altri stabilimenti bandiere consegnate anche all'università per la sua presenza sul territorio con il corso di laurea in scienze turistiche e alle associazioni della pesca per Federco Pesca c'era Domenico Guidotti che ha rinnovato invece l'invito alla regione Una tartaruga marina è stata ritrovata spiaggiata sul litorale di Campomarino dove probabilmente si era avvicinata alla riva nel tentativo di deporre le uova state vedendo proprio le immagini l'esemplare è stato notato da un passante che ha allertato la capitaneria di Porto che ha poi proceduto al recupero della tartaruga un esemplare molto grande che non è facile trovare da queste parti proprio per le sue dimensioni lungo oltre un metro e con un peso di decine di chili Ora ascoltate questa storia riguarda un molisano che è stato condannato per vilipendio alla nazione ce ne parla Tonino Danese 1000 euro di multapena condonata per un pensionato 71enne di Montagano condannato dalla Corte di Cassazione per vilipendio alla nazione ha usato in pubblico un linguaggio ingiurioso nei confronti dell'Italia i fatti sono accaduti nel 2005 l'uomo era particolarmente infuriato con i carabinieri che lo avevano fermato perché viaggiava su un'auto con un solo faro acceso forse nemmeno sapeva di quella luce rotta ma quando ha capito che era in arrivo una contravvenzione la protagonista della vicenda è andato su tutte le furie perdendo il controllo e pronunciando frasi con ingiurie nei confronti dei militari perché non andate ad arrestare i tossici invece di perdere tempo così ha detto loro in maniera più colorita e poi l'affondo tali cose capitano solo in questo schifo di Italia di e lasciamo immaginare il seguito della frase l'uomo per questo è stato portato in tribunale ma in primo grado e in appello è stato assolto dal reato di vilipendio all'arma condannato invece per vilipendio alla nazione italiana l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che con quella frase non intendeva disprezzare lo Stato ma a suo avviso stava solo esercitando una libera manifestazione del pensiero la Suprema Corte però non ha accolto questa tesi condannandolo appunto perché il diritto di manifestare il proprio pensiero non può trascendere in offese grossolane e brutali cioè per la Cassazione il reato di vilipendio non consiste in atti di ostilità o violenza e manifestazioni di odio basta l'offesa alla nazione attraverso una qualsiasi espressione di ingiuria o disprezzo in pubblico che le dà il prestigio e l'onore della collettività nazionale sia pure nel contesto di un'accesa contestazione per una contravvenzione si terrà questo pomeriggio alle 16 al Campobasso il convegno la riforma forense e la sua attuazione organizzato dall'ordine degli avvocati del capoluogo sarà presente all'incontro il responsabile giustizia del PD Danilo Leva e le rappresentanze degli ordini forensi di Abruzzo Marche e Umbria e intanto l'università del Molise apre le sue porte alla criminologia sentiamo Enzo Di Gaetano l'università del Molise amplia sempre di più la sua offerta formativa questa volta propone a tutti i laureati di secondo livello un master in criminologia che sarà organizzato su due anni di corso offrendo interessanti prospettive in un settore quello delle indagini scientifiche sulla scena del crimine in continua evoluzione se ne è parlato a Isegna nel corso di un convegno dal tema teorie tecniche criminologiche ed analisi quantitative applicate all'investigazione scientifica del crimine organizzato dai professori Mario Di Traglia e Barbara Calabrese è stato organizzato qui a Isegna oggi perché serve come presentazione di un master dal titolo teorie tecniche criminologiche ed analisi quantitativa applicate alla investigazione scientifica del crimine perché questo master il master dovrebbe partire ad ottobre e parte che in un minimo di 15 iscritti se poi gli iscritti saranno di più tutto ciò che entra sarà devoluto agli studenti stessi per abbassare la quota di iscrizione insomma a cosa serve questo master e chi lo può frequentare? noi puntiamo però in particolare a creare una figura professionale nuova che tuttora in Italia almeno non esiste esiste negli Stati Uniti qualche paese europeo ed è quella del criminologo quantitativo cioè un criminologo che affianchi alle conoscenze tipiche della criminologia attuale la conoscenza delle tecniche matematiche e statistiche soprattutto sappia maneggiare i dati cioè trarre informazioni dai dati toccheremo vari fronti dall'economia dalla statistica dalla medicina dalla neurologia dalla psichiatria dalla giurisprudenza una figura professionale complessa come quella del criminologo non deve essere un tuttologo ma deve essere colui che conosce tanti settori sia nello specifico che grossolanamente perché è necessaria questa interdisciplinarità nelle tematiche quando si deve scorbire non soltanto la causa i mezzi e quindi le competenze più competenze noi abbiamo e più potremo non soltanto risolvere il caso ma prevenire quell'atto deviante che si poteva evitare che accadesse in chiusura un appuntamento inizierà infatti questo pomeriggio alle 19 a Yelsey la sesta sagra del tradizionale funnateglio dedicata alla pietanza tipica della zona a base di pomodori peperoni uova e salsiccia casereccia l'evento che si svolge nell'arco di tre giorni nell'area degli stabilimenti Metal Zilembo prevede momenti di spettacolo e di sport questa sera ad esibirsi saranno e cura canta mentre domani sul palco sarà una cover band dei nomadi sabato e domenica spazio al sesto incontro Ape Cross con spettacolari esibizioni di piloti a bordo dei simpatici tre ruote italiani domenica sarà proposta anche in anteprima una pizza funnateglie condita con tutti gli ingredienti della pietanza tipica bene è tutto anche per l'appuntamento con l'informazione delle ore 14 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata ora meteo e poi sport grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti